E' una puntata speciale di incontri. E' una puntata speciale perché siamo in esterna e perché incontriamo Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset, che ci parlerà di un anno in Piemonte nel 2012. E' finalmente uscito con una copertina decisamente particolare che sta anche facendo discutere molto. Perché questa scelta? La scelta di avere un anno in Piemonte bianconero e granata? Molto più granata che bianconero? Quali sono i fatti che hanno caratterizzato il nostro anno piemontese? La scelta di essere qui allo stadio e di aver fatto questa copertina è perché, per fortuna che c'è il calcio, è stato un anno bruttino, diciamo così, difficile, in salita per tante vicende, per tante cose. Il calcio ci ha regalato qualche momento di gioia, sia per il bianconero della copertina, perché questa cavalcata trionfale ha vinto lo scudetto, è entrata in Champions, ha superato le fasi preliminari. Quindi un anno straordinario per la squadra di Antonio Conte, praticamente ha vinto uno scudetto in battuta e il Toro ha conquistato il suo piccolo scudetto raggiungendo la Serie A, magari con qualche difficoltà verso la fine dell'anno. Però comunque è stato un anno dal punto di vista calcistico Toro Juve che ci ha regalato tante e tante gioie. Allora la scelta di essere qui allo stadio, la scelta di fare la copertina era proprio perché, visto che tutti gli anni cerchiamo di dare dal colore della copertina un simbolo un po' dell'anno, l'anno scorso era tricolore per i 150 anni dell'Unità d'Italia, quest'anno l'abbiamo fatta bianconera. Fa discutere perché? Perché non piace questo accostamento di colori, non piace ai giuventini, non piace ai Granata. Soprattutto per i centimetri che sono stati, esatto, c'è addirittura chi ha chiesto di ritirare il libro dalle librerie fin tanto che un perito non abbia calcolato esattamente i centimetri se c'è più Toro o più Juve. Diciamo che la scelta è bianconera rigorosa, per mettere i titoli dell'anno non potevo metterli sulle strisce bianconere perché non si sarebbe letto e allora è finito sul Granata. Allora Beppe, queste sono come dire le note belle, colorate e positive di questo libro, ma parliamo dei contenuti. Come sempre c'è tutta la prima parte dedicata ai fatti, tutti i principali fatti accaduti nell'anno e come dicevamo non è stato un anno facile, un anno in salita. Vuoi per le vicende della Fiat, il Marchion che ha modificato, il progetto Fabrica Italia che crea ancora molti perplessità, molti dubbi, specie a Torino su quale sarà il futuro di Mirafiori. C'è stata la sentenza Ethernet, sì una sentenza storica importante ma che va a chiudere perlomeno la prima parte di un capitolo di 2.000 passamorti per amianto nella zona di Casale. E poi ci sono state un'annata turistica un po' così ambivalente, sì il turismo continua a tirare in Piemonte però ad esempio la mancanza di neve invernale coincisa con le proteste dei Notava ha significato per la Val di Susa, per le montagne olimpiche, un inverno proprio di crisi. Per fortuna che quest'anno la neve c'è e la stagione è partita bene, quindi questo è un anno un po' ambivalente. Quante le aziende collegate alla vicenda Fiat ma che hanno chiuso, che hanno messo in cassa integrazione. Per quel che riguarda la cronaca nera c'è questo attentato al candidato sindaco Miusi che ha creato così grosso scalpore nella nostra città e che ancora tutt'oggi rimane un mistero. E poi in questo anno, succede tutti gli anni, ma in quest'anno abbiamo perso un po' di grosse personalità piemontesi. È morto Oscar Luigi Scalfaro, è morto Carlo Fruttero che con Lucentini ha scritto un sacco di libri. Sono morti purtroppo tanti sindaci, Porcellana, La Magna di Noia, Giovanna Incisa Cattaneo. E in particolare a me piace ricordare è mancato il cardinal Carlo Maria Martini che sì vescovo di Milano ma torinese, nato a Torino e legato tantissimo a questa città. Il libro presenta un po' questo, anche se è cambiato un po' rispetto agli anni scorsi. Ho proprio voluto dividere i due aspetti, c'è i fatti prima e poi gli approfondimenti. Cioè una serie di capitoli dedicati proprio alla vicenda Fiat, taglia D, al turismo, alla TAV, alla Juve, al Toro. Cioè proprio a mo' di approfondimento con interviste, editoriali, tabelle, un po' per cercare sempre di capire meglio la regione in cui stiamo vivendo perché soltanto cercando di riflettere e capire quello che stiamo vivendo siamo in grado di sperare in qualcosa di meglio per il futuro. Beppe, qual è stato l'evento non solo in Piemonte, ci allarghiamo un pochino, lasciamo i confini regionali, che ti ha maggiormente colpito in questo 2012? Tu sei il cronista di un grande gruppo televisivo e quindi ti occupi non solo di regione Piemonte ma di tutte le regioni. Ci sono tanti avvenimenti mondiali, dalla rielezione di Obama a fatti di casa nostra, voi le vicende del terremoto dell'Emilia che così ci ha tanto colpito. A me piace ricordare una piccola notizia, una notizia del 13 marzo di quest'anno accaduta a Torino. Il libro ha una finalità anche da tanti anni, parte del devoluto delle vendite, va all'Associazione per la lotta contro la fibrosi cistica, che è una malattia genetica. Ebbene, il 13 marzo alle Molinette una ragazza di 24 anni si è laureata in psicologia, malata dalla nascita di fibrosi cistica, si è laureata con 110 lode proprio all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale Molinette. In un mondo che è così pieno di notizie brutte, di cammini difficoltosi, come ho detto un anno in salita, questa è una grande notizia di speranza. Una ragazza che dalla nascita lotta per sopravvivere, ha avuto un trapianto di polmoni e comunque in quel momento era malata fortemente di polmonite, ha avuto la forza di discutere la tesi proprio in una camera di rianimazione, di prendere 110 lode e i genitori piangendo dicevano che è una forza della natura. Caspita, una ragazza malata dalla nascita di una malattia così brutta, essere una forza della natura, tanto di cappello ci dovrebbe insegnare molto a tutti noi. Allora, per andare a chiudere, per quanto riguarda un anno in Piemonte nel 2012 di Beppe Gandolfo, N.C. Communication, la casa editrice in tutte le librerie, apro una parentesi invece su un altro lavoro che hai chiuso da pochissimo, il libro scritto con Donaldo Rabino, questa bella chiacchierata fra te e Donaldo Rabino sui ricordi di Donaldo per quanto riguarda il Toro. Grandissimo successo perché è già stato stampato due volte. Seconda edizione, seconda edizione in due settimane, è una cosa che mi riempie di gioia, anche di orgoglio, questo progetto editoriale che ho proposto a Donaldo e Donaldo ha raccolto, sta andando bene, la prima edizione è andata a ruba in tutte le librerie, è dovuto ristamparne una seconda edizione, segno che c'è tanto affetto per il Toro e questo va bene, però la cosa bella è che è un libro che dà qualcosa anche, a chi lo legge e comprandolo da qualcosa anche a tutti i bimbi di Donaldo, sia a quelli che sono nelle missioni in Brasile, sia per le tante altre attività che questo sacerdote cappellano del Toro da 40 anni porta avanti. A volte passi anche le notti a scrivere un libro e a fare un po' di fatica a ritagliare il tempo magari per i divertimenti, per lo sport, per scrivere dei libri, sapere che poi però vanno bene, piacciono, vendono, beh è un bel risultato. Per me è stato un bel 2012, lo posso dire tranquillamente, mi auguro che per me, ma per tutti voi soprattutto, il 2013 sia senz'altro più bello. Grazie a Beppe Gandolfo, Un anno in Piemonte nel 2012, ricorda il titolo del libro con Donaldo Ravino? Il mio toro, la mia missione. Il mio toro, la mia missione. Grazie da questa location particolare, restituiamo la linea alla regia. Grazie Beppe. A voi. Grazie a tutti.